Bentornata, bentornato Goodlier. Ora continuiamo nella descrizione del BIOS, ma questa volta cambiamo tipologia di interfaccia. Infatti nelle lezioni scorse hai avuto visione di un'interfaccia che è quasi quella più comune in questo periodo, che è quella che ti permette di interfacciarti, di interagire con il computer esclusivamente grazie a una tastiera. Ora invece le schede madri più recenti hanno un'interfaccia che migliora l'usabilità nell'interazione col programma stesso. Infatti l'interfaccia sarà di tipo grafico. Potrai utilizzare non solo la tastiera, ma anche il mouse, in modo da poter navigare ogni pagina del BIOS ed impostare i vari parametri o funzioni al suo interno in maniera più rapida e più efficace. Quindi se la grafica ti piace in particolar modo, puoi guardare l'interfaccia di questa scheda madre dell'azienda AsusTech. Ti do prima una descrizione delle funzioni che vedrai poi grazie ad uno screenshot. In questo specifico BIOS, già nella pagina di presentazione, quindi nella home page, ci saranno un bel po' di informazioni. Infatti, ad esempio, in alto a sinistra, oltre alla marca della scheda madre, potrai visionare ora, giorno, mese ed anno attuali. A fianco, nella zona destra di queste informazioni, potrai visionare la versione del BIOS e la sua data di produzione. Di sotto, troverai alcune informazioni relative alla CPU, al processore, come la marca, che in questo caso è Intel, il tipo, che in questo caso specifico è un Pentium, il modello, nella fattispecie, un G840 e la velocità, che è di 2,8 GHz. Sempre nella schermata iniziale, se scendi ancora più in basso, potrai trovare la quantità di memoria RAM, che in questo computer specifico è di 4 GB, la tipologia della stessa, che è una DDR3 e la velocità. Qui in dettaglio puoi vedere in alto a sinistra la marca della scheda madre, in basso l'ora, giorno, mese ed anno, quindi il calendario. Alla destra è il modello della motherboard, sotto la versione e la data di costruzione del BIOS, sotto ancora la tipologia del processore, quindi è un Intel Pentium con CPU modello G840 a velocità di 2,8 GHz. Sotto ancora troverai la quantità di RAM presente in questo computer, con tipologia costruttiva DDR3 ad una velocità di 1333 MHz. Le altre funzioni te le descrivo subito. Nei prezzi del centro della schermata, a sinistra, vedrai alcune barre colorate, che evidenziano alcuni parametri, come la temperatura della CPU e della scheda madre. Alla loro destra troverai i valori di tensione e di alimentazione del processore, quindi quelle che sono fornite dall'alimentatore interno. Ancora più a destra troverai la velocità della ventola che è presente sul processore, quindi il dissipatore, indicata con la sigla CPU Fan. Sotto ancora troverai la zona definita System Performance, ossia una serie di tre pulsantoni con icona tipo tachimetro che ti permetteranno di impostare le prestazioni che vuoi dal sistema. Potrai trovare un'icona con il tachimetro colorato di verde che imposta le prestazioni base del BIOS, quindi produrrai un lavoro meno prestante dal punto di vista della velocità, ma anche un minor spreco di energia. Successivamente potrai trovare nella zona centrale un indice di color celeste, quindi un tachimetro di color celeste, che imposta delle prestazioni intermedie del BIOS, quindi si trova un equilibrio tra velocità e consumi. Infine, se vuoi un sistema molto performante, dovrai selezionare l'icona di color rosso per dare maggiori prestazioni, quindi maggiore velocità, ne consegue che ci sarà anche un maggior spreco di corrente. A te quindi la scelta in base a ciò che vuoi ottenere dal tuo PC. Personalmente, in ogni settaggio e in ogni impostazione, io prediligo sempre la velocità del computer, rinunciando quindi anche a un aspetto estetico, ottenendo quindi magari a volte un aspetto molto spartano, ma più rapido. Infine, in questa schermata in basso, trovi una sezione relativa alla priorità di avvio del tuo computer. Quindi, potrai selezionare, grazie a due pulsanti, da quale dispositivo avviare il PC. Infatti, c'è un'icona che ti permetterà di avviare il PC tramite il lettore masterizzatore, ossia grazie a un CD o un DVD presente all'interno del lettore masterizzatore. Quindi, dovrai inserire un disco. Il pulsante a destra, invece, permette di avviare il PC normalmente da disco rigido, quindi grazie al sistema operativo installato al suo interno. Come impostazione di massima, direi che è meglio selezionare come dispositivo principale di avvio il lettore masterizzatore, in quanto, se non è presente un disco, un DVD o un CD, naturalmente il BIOS avvierà la procedura di inizializzazione del sistema operativo dal disco rigido. In basso a destra, troverai altri due pulsanti, uno che ti permette di selezionare i parametri base del BIOS, grazie alla pressione del tasto F5 o al pulsante evidenziato, oppure, di nuovo, selezionare il menu di avvio, che ti permetterà di scegliere il tipo dispositivo, che ti permetterà di avviare il PC, premendo il tasto F8. Allora, ecco di nuovo in questa schermata, qui in alto a sinistra trovi i valori relativi alla temperatura del processore e della schiera madre, alla sua destra trovi i valori di tensione di alimentazione del processore, tensione che ricordo è fornita dall'alimentatore interno, e alla destra la velocità in gira al minuto della ventola dissipatrice del processore stesso. In basso trovi i tre pulsantoni che ti permettono di selezionare le prestazioni del sistema, premendo questo, quello di color verde, avrai un sistema relativamente veloce, ma con un risparmio di energia, di corrente. Nella zona centrale ci sarà la possibilità di selezionare un sistema che aumenta le sue prestazioni e quindi i suoi consumi, equilibrando questi due parametri. Infine alla destra troverai una selezione che ti permetterà di impostare alte prestazioni dal punto di vista di velocità del tuo sistema. Ne consegue che avrai anche un incremento di consumi della tua macchina. In basso a sinistra trovi due pulsanti di selezione della priorità di avvio del computer. Nella fattispecie c'è il pulsante per selezionare l'avvio di PC tramite un lettore masterizzatore, al cui interno inserirai un disco, verosimilmente avviabile. Alla destra troverai il pulsante per avviare il PC da hard disk, quindi all'interno del quale è presente il sistema operativo. In basso a destra infine troverai due pulsanti che ti permetteranno di selezionare di nuovo il menu di avvio per scegliere il dispositivo per l'avvio del tuo computer e alla destra il pulsante che ti permetterà di impostare i parametri base del tuo BIOS. In alto a destra di questa schermata potrai trovare il pulsante che ti permetterà di selezionare la lingua di interfaccia del BIOS oppure troverai un altro pulsante che ti permetterà di uscire dalle impostazioni e salvare ciò che hai impostato oppure entrare nella modalità avanzata, grazie a questo pulsante in alto a destra. Nella schermata successiva a questa selezione potrai quindi uscire dal setup senza memorizzare i parametri selezionati quindi in fase di lettura chiamiamo così questa chiave oppure memorizzare i dati e riavviare quindi il PC con questi dati memorizzati infine come ho detto entrare nella sezione avanzata per impostare i parametri un po' più particolari tornando in questa schermata puoi trovare in alto a destra il pulsante che ti permetterà di uscire o entrare nella modalità avanzata cliccandoci sopra avrai visualizzato questa finestra che ti permetterà di uscire da questo setup senza memorizzare le impostazioni eseguite uscire e memorizzare queste impostazioni riavviando il computer oppure entrare nelle impostazioni avanzate del BIOS avviando la modalità avanzata entrerai in una nuova sezione che ti permetterà in alcuni casi di visionare informazioni già riscontrate nello screenshot che ti ho appena presentato e ancora visualizzare ed impostare dei parametri che ancora non ti ho ben evidenziato questo menu avanzato si presenterà in 7 sezioni avrai una sezione principale main una sezione definita degli smanettoni quindi eye tweaker una sezione advanced vera e propria quindi funzionalità avanzate una sezione di monitoraggio che ti permetterà di visionare alcuni parametri una sezione di avvio che ben o male già ti ho spiegato una sezione con degli strumenti speciali ed infine la sezione relativa all'uscita del BIOS all'uscita del setup del BIOS troverai come detto informazioni già conosciute come i parametri del BIOS, della CPU, della memoria RAM la lingua selezionabile, data e orario in questa sezione puoi anche rimpostare i parametri qualora fossero errati la new entry invece è relativa al pulsante di sicurezza che già hai conosciuto nella presentazione del BIOS ad interfaccia classica infatti qui potrai impostare una password di accesso al BIOS come amministratore unico o fornire un accesso limitato a uno o più utenti per una più completa descrizione di quanto appena descritto ti rimando alla lezione scorsa nel quale ho descritto in maniera molto più corposa le funzionalità di questa sezione sicurezza che ben o male è identica in tutti i BIOS noterai che alla sinistra di alcuni parametri e di alcune funzioni troverai un simbolo con una freccia indicata verso destra ciò indica che è presente un sottomenu a tale funzione che ti dà accesso ad altre possibili opzioni come appena detto entrando nella modalità avanzata trovi le sette sezioni che ti andrò man mano a descrivere in questa prima sezione principale main ritrovi anzi le informazioni relative al BIOS in termini di versione e data di costruzione le informazioni relative alla CPU marca, modello, tipo e velocità informazioni relative alla RAM quindi 4 GB alla velocità di 1333 MHz la lingua selezionata data ed ora di questo computer di questo BIOS che potrai benissimo cambiare e il sottomenu di sicurezza che già come ripeto ti ho descritto abbastanza corposamente nella lezione 44 nella destra troverai una leggenda di alcuni tasti della tastiera ed in alto una descrizione sommaria del parametro selezionato in quel momento o dalla tastiera o dal mouse in modo da avere una descrizione un po' meglio definita del parametro che andai a visionare o impostare come detto in basso a destra trovi una leggenda che dà informazioni migliori per cui riguarda alcuni tasti che potrai utilizzare per selezionare o impostare alcuni parametri di questo BIOS al di sopra di tale leggenda troverai sempre presente una breve descrizione del parametro che andrai a selezionare con mouse per una migliore comprensione sulle funzioni di tale parametro appunto in particolar modo ti voglio evidenziare una funzione un'opzione molto utile che ti permette questo specifico BIOS che è la pressione del tasto F12 nel qual caso ti permetterà di creare un fermo immagine in inglese screenshot di ciò che si presenta al tuo monitor il risultato di dare l'opzione te l'ho appena mostrato in diretta guardando appunto le immagini di questa sezione infatti gli screenshot presentati in questa e nelle prossime lezioni derivano proprio dalla pressione del tasto F12 che andrà a memorizzare in un file immagine ciò che si presenta in quel momento sul monitor qui evidenziata trovi la leggenda che sarà mostrata nel BIOS premendo i tasti destra e sinistra potrai selezionare i menu oppure le schede del BIOS premendo invece i tasti alto e basso potrai selezionare l'opzione del menu a tendina che ti si presenta oppure l'opzione evidenziata del BIOS premendo il pulsante ENTER attiverai la selezione di quel dato menu di quel dato specifico parametro che potrà essere cambiato o manualmente o grazie ai tasti più e meno premendo invece il tasto F1 il tasto funzione F1 potrai ottenere informazioni di aiuto descrittive di aiuto nell'utilizzo del BIOS se invece premi il tasto F2 il parametro che stai selezionando sarà repristinato al valore precedentemente memorizzato premendo F5 invece il sistema imposta automaticamente il parametro migliore quindi ottimizzato per il tuo hardware specifico il tasto F10 memorizza i parametri impostati ed esce dal setup del BIOS il tasto ESC invece esce dal setup senza memorizzare il tasto F12 ti permette di creare degli screenshot quindi dei fermi immagini di ciò che vedi a monitor in quel momento bene nella prossima lezione proseguirai nella lettura di questo BIOS molto tecnologico dal punto di vista grafico ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto